Oggi siamo arrivati a, dopo un mese, quattro allenamenti, cinque allenamenti svolti. Riusciamo a vedere i ragazzi come se la cavano sul campo contro una squadra che è Legnano, che ringraziamo a parte di tutti, un ringraziamento, che ci danno questa possibilità. È una buona vitrina per loro perché Legnano è una bella società calcistica, una società di Serie D in cerca di giovani, perché il campionato di Serie D è un campionato molto importante e difficile soprattutto e speriamo che oggi appunto i nostri ragazzi siano in grado di giocarsi le loro carte. Gli auguro con tutto il cuore di non emozionarsi perché tante volte in questi casi succede che dei ragazzi si possono emozionare un po', ma io sono convinto che fanno bene. Una volta levata la paura di dosso, oggi se la giocano tranquillamente. Per il resto il prossimo appuntamento vediamo dal risultato di oggi. Se tutto deve come deve andare alziamo un attimino l'asticella e proviamo con un'altra società professionistica massimo di Lega Pro. Se dovesse andare bene anche quella alziamo ancora l'asticella con una di Serie B e così via. Quindi adesso è tutto in mano a loro. In bocca al lupo!